25 novembre radicofani dalla finestra del nostro misero salottino di siena strana vista di una massiccia casa di mattoni variata da finestre ad arco e da enormi contrafforti e da una torre ottagonale a tetto piatto in lontananza una distesa di pianura e appennino disceso un ripido colle siena visibile con perfetta chiarezza da una distanza di 12 miglia il paesaggio un'unica massa di melma biancastra in strati sottili tutta crepe e solchi causati dall'acqua ridotta a strane irritanti montagnole e creste veri mucchi di fango smisurati per cui la strada è un perpetuo su e giù paesaggio di una bruttezza insopportabile senza dubbio perché scarsamente coltivato e reso ancora più desolato dalla stagione vento rabbioso da nord est per di più che ululava contro i finestrini e spingeva i mantelli dei postiglioni sul muso dei cavalli fino a farli inquietare nella seconda località di posta dopo siena c'era una viuzza a di sotto di un arco con la scritta via delle pulci via delle pulci che interessante esempio di nomenclatura via via che si avanzava la strada diveniva più collinosa e il panorama più desolato tuttavia sempre bello come profilo e a me nei villaggi per effetto della distanza coronanti le alture di severe linee orizzontali le torri una nota spavalda a far da contrasto e qua e là fortezze sebbene non imponenti come ne vedevamo ieri vicino siena erano come antichi castelli del galles oggi semplici torri in cima a un poggio sulla destra la grigia massa di un monte luccicava di ardesia o di neve o di qualcosa che brillava non potevo dire cosa ma era bello l'effetto di quegli improvvisi sprazzi di luce dopo l'ultima stazione di posta un'ascesa di otto miglia al di sopra di quegli assurdi banchi di fango dominante un ampio tratto di distanza verso nord troncato da una catena di monti appena incipriata di neve il sole tramontava sotto una massa di nuvole grigie che si estendevano grevi sui colli alla nostra destra proiettando un'intensa ombra bluastra dal punto dove questi penetravano la loro superficie inferiore tutto il resto di un fiammeggiante color cremisi ambrato lo spazio di cielo al di sotto a inondare di un fulgore purissimo intenso una catena di monti mirabilmente aguzzi a riverberarsi di rimpetto sulle torri di radicofani brutte torri di rossi mattoni ma per questo tanto più calde e a splendere su un ammasso di lava e basalto sparso per tutto il fianco del colle locanda malinconica a vedersi ma assai confortevole e sto scrivendo in una stanza dall'aspetto molto civile con un lussuoso tappeto e un bel fuoco di legna con il vento che ulula lungo il corridoio esterno e attraverso 50 buchi serrature con un furore quale mai li ho sentite guagliare sul grimsel o sul gran san bernardo nell'insieme oggi il paesaggio è stato detestabile una totale delusione